Quale traccia hai scelto per questa prima prova? La B2, quella di argomentativo. Qual era il titolo? Speriamo che vada bene perché comunque è stato cambiato quest'anno, un po' a sorpresa, in corso d'opera, tra l'altro è stato chiarito veramente solo a partire da ieri con la circolare definitiva, quindi sicuramente c'era un grosso punto di domanda in partenza. Speriamo vada bene, dipenderà molto sia da quello che esce dal ministero, sia da quello che esce dalle buste dell'orale, insomma anche in prospettiva al di là dell'esame di oggi e auguriamoci che vada tutto liscio. Non c'era una traccia particolarmente interessante secondo me. Voi quale avete scelto? Quella su Ungaretti io ho fatto. Io la B1. Io la A2 sulla mafia. E vi siete trovati un attimo in difficoltà essendo che non c'era più il saggio breve, ci sono stati dei cambiamenti? No, non particolarmente. No, neanche io. No. Io l'ho trovata abbastanza fattibile nel senso che ho fatto la traccia sulla tecnologia e è in linea con i miei interessi, quindi sono stato abbastanza facilitato in quello e spero che quello che abbia scritto piaccia, insomma. In linea con le simulazioni che avevamo fatto durante l'anno. Dura. Cioè, sì, dai, era anche fattibile, però ci sono comunque delle cose che già l'ansia, che è il primo esame veramente importante e un po' è il tutto. Quindi all'inizio è stato un po' dura leggere tutte le tracce, però un po' alla volta, anche grazie ai professori, ce l'abbiamo fatta e insomma siamo qua. Io ho fatto quello che potevo, mi sono ammazzato la mano a scrivere due volte il testo, quindi direi di sì. Io spero di non essere andato fuori tema. Sono anche abbastanza soddisfatto personalmente. Anche io spero di non essere andata fuori tema. È abbastanza soddisfatta. Nel complesso soddisfatto, pensavo qualche traccia un po' migliore secondo le aspettative, però soddisfatto. I pronostici non me ne faccio, essendo particolarmente scaramantico, ma secondo me è andata anche abbastanza bene. Siete contenti del vostro elaborato? Potevate fare di meglio? Sicuramente si può sempre fare di meglio, ovviamente è una prova di italiano, quindi non sappiamo con certezza il voto come magari può essere subito dopo la seconda prova, che comunque si sa già quali esercizi si pensa di aver fatto bene, comunque sì, la sensazione è normale. Sì, sono comunque tutto sommato abbastanza soddisfatto del lavoro che ho fatto, della produzione. Non è stato sicuramente semplice, è stato abbastanza impegnativo, però sono contento di quello che ho fatto. E domani cosa vi aspetta? Siete in ansia oppure siete abbastanza tranquille? No, particolarmente preoccupata per domani. In ansia, assolutamente. Vi sentite pronte o no? No, assolutamente. Non moltissimo. Come mai? Sì, questa è una domanda, è un tasto dolente. Cosa ti aspetta per la seconda prova? Sangue. Lacrim. Per me la maturità è stato un momento veramente teso. Ancora faccio i sogni che riguardano la mia maturità. Gli incubi. Non è andata tanto bene quindi? No, no, è andata bene. È andata bene con l'aiuto anche dei miei compagni, devo dire che mi hanno dato una mano al tempo. È andata molto bene, sì. Cosa avete pensato appena avete letto le tracce di questa prima prova? Posso dirlo? No, 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 è andata bene.